Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è venerdì 18 febbraio 2022. La Santa del Giorno è Santa Gertrude Comensoli. Una santa italiana è nata in Valcamonica nel 1847. Fece parte come postulante dell'Istituto delle Figlie della Carità di Lovere in provincia di Brescia, ma malato si venne dimessa. Allora prestò servizio come domestica nella casa del Prevosto di Chiari e si fece educatrice di tanti tanti bambini del circondario. Fondò poi la Congregazione delle Scuole Sacramentine di Bergamo. Visse una vita santa e improntata all'aiuto degli altri. Ed ora vediamo subito le previsioni del tempo. Oggi il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 17.41. Il tempo si mantiene stabile con cieli totalmente sereni o al più poco nuvolosi. Questa mattina sulla costa c'era tanta nebbia, probabilmente c'è anche in questo momento, quindi fate attenzione per quanto riguarda la viabilità. Le massime si spingeranno fino a 15-16 gradi, 20 al più moderati da sud-ovest. Le temperature comunque sono in calo. Comunque le temperature che arrivano a 16 gradi in pieno inverno sono un caso un po' particolare. Partiamo dal Corriere Adriatico questa mattina. Per quanto riguarda le notizie lo apriamo sulla pagina di Fano e vediamo che ci sono due notizie. Le due notizie vengono così date in apertura sia sul Corriere che sul resto del Carlino. Si tratta della protesta dei residenti di Via dello Squero e delle dimissioni poi però ritirate da parte della Presidente della Carnevalesca Maria Flora Gian Marioli. Vediamo il primo titolo di apertura. I residenti protestano con i cartelli contro l'insediamento di una cabina elettrica sull'aiuola di Via dello Squero. Ci sono due tentativi che ora effettuerà l'amministrazione comunale che ieri ha radunato i tecnici per studiare una soluzione al problema. Si effettueranno due simulazioni, una sull'area verde di Via dello Squero, quell'altra invece nei pressi dell'isola ecologica di Piazza dei Calafati. Sono comunque distanze molto ridotte l'una dall'altro per vedere qual è la soluzione migliore. Comunque i residenti sono scesi sul sentiero di guerra, hanno affisso dei cartelli, hanno tolto i picchetti dalla aiuola dove dovrebbe essere insediata appunto questa grande cabina. Si parla di 5 metri di lunghezza e 2 metri e mezzo di altezza che costituisce un considerevole impatto ambientale. Comunque la soluzione è allo studio e vedremo questo braccio di ferro come si concluderà. Quell'altra notizia invece sono le dimissioni di Maria Flora Gian Marioli che è giunta quasi al termine del suo mandato perché quest'anno scade il suo triennale, il suo secondo triennato di presidenza della Carnevalesca. Il motivo delle dimissioni è stato il clima di stanchezza e distrazione che si avvertiva nel Consiglio di Amministrazione e devo dire che il Consiglio di Amministrazione della Carnevalesca è stato sempre un po' turbulento, un'occasione di confronto sempre molto vivace all'interno degli stessi consiglieri e a un certo punto può capitare che la Presidente su cui poi grava tutto il peso della gestione delle Carnevale, pensate alle firme che personalmente deve mettere in banca per garantire il pagamento di tutte le spese, ebbene può capitare che una Presidente o un Presidente si stanchi e dica beh allora basta pensateci voi. Ebbene ma Maria Flora dopo aver superato questo momento di sconforto ci ha ripensato e ha ripreso il suo posto per garantire almeno la settimana grassa che è all'inizio in questi giorni. Una settimana grassa che non vedrà purtroppo il grande corso mascherato dei carri allegorici ma che si alterna tra manifestazioni di mostre, di iniziative varie per quanto riguarda di cene. C'è anche una bella scena di solidarietà organizzata nella Mesa di San Paterniano. Sinergia tra azienda ingegneristica e agricoltori. Un interessante esperimento, un patto è stato fatto tra la TECFEM, una delle ditte di ingegneria più importanti del territorio, e il servizio di primo raccolto per la fornitura di prodotti direttamente alla ditta o nelle case dei dipendenti. Una iniziativa di carattere ambientale interessante e sperimentale. Lavoro tolto ai disabili. Il PD attacca il presidente di Aset Reginelli. E anche il PD protesta per quanto riguarda questa decisione di Aset introncare i rapporti con la cooperativa Contatto che ha assunto cinque persone, tra le quali tre con fragilità, che ora sono senza lavoro perché appunto il rapporto è stato interrotto. Un tamponamento a catena tra quattro auto altrettanti inferiti si è verificato ieri intorno alle 8.30 in Viale Romagna, dove corre un tratto urbano della statale Adriatica Nord rispetto alla città di Fano. Ebbene, c'erano a bordo anche due bambini che sono stati illesi, mentre gli altri occupanti sono stati ricoverati tramite ambulanze nel pronto soccorso dell'ospedale di Fano. Ebbene, è successa una carambola veramente coinvolgente perché una Mercedes guidata da una donna di 36 anni di origine albanesi ha investito una Suzuki, ha tamponato una Suzuki condotta da un trentenne fanese che a sua volta, con la spinta, è finita contro una Toyota che la precedeva al volante un pesarese di 72 anni, a bordo anche il suo nipotino di 6 il quale a sua volta ha urtato una Nissan con un 42enne alla guida, anche lei pesarese. Insomma, veramente quattro auto che si sono così urtate a catena. E poi è accaduto un altro incidente, sempre nella giornata di ieri, in via Metauro, all'incrocio con via Lelli, uno schianto tra un'auto ed una ciclista. Vedete qui in questa fotografia la bicicletta a terra e la ferita, ovviamente, la ciclista è stata ricoverata in ospedale. Passiamo a Fossombrone. Urbanistica da digitalizzare, è arrivato un nuovo tecnico, l'architetto Roberto Imperato nel comune di Fossombrone, all'assessorato dell'urbanistica, che ora si propone di digitalizzare tutte le pratiche a partire da quelle del 2021. Ancora sulla pagina del Corriere Adriatico, passiamo a Senigallia. La finanza sequestra un milione di mascherine FFP2. Mascherine bleffe filtravano soltanto il 30% appunto dell'inquinamento prodotto da virus. Erano vendute in tutta Italia. È stato denunciato un quarantenne di origini cinesi che le aveva importate nel Fermano. Secondo un'analisi di laboratorio, proteggevano poco o niente, oltre a non essere certificate, secondo appunto il marchio della CEA, quindi una truffa che è stata sgominata. E poi Senigallia dedica ancora due pagine per quanto riguarda l'addio a Giuseppe Lenoci, il ragazzo morto a 16 anni mentre si ricava ad un corso di formazione organizzato in ambito scolastico. Giuseppe Strazio per l'addio, Len resterà nei nostri cuori. Sedicenne morto nell'incidente, funerali a Monte Urano, alunni e amici abbracciano la famiglia. La mamma si stringe all'altro figlio. Donne Luigi, il prete, si preparava per il lavoro con amore e passione, ha dichiarato nella sua omelia. Ovviamente il tutto confluisce nella richiesta di più sicurezza sul lavoro, servono scelte concrete. Lo sportello dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale dei Mutilati sul Lavoro a Monte Giorgio, dichiara appunto questo e Luciani finora sono stati compiuti solo atti formali. Ci vuole più concretezza. Passiamo alle pagine pesaresi del Corriere Adriatico. Torniamo sulla polemica della dirigenza del pronto soccorso di Marche Nord. Il pronto soccorso è una polveriera. Per noi tutti un KO, hanno detto appunto gli operatori che lavorano in questo settore. Le voci del reparto rivelano amarezza e sconforto per la sostituzione del primario, Gnudi. Vannucci ha detto la verità, Gnudi ovviamente si riferisce a Gnudi. E Lambertini, ora siamo demotivati. Gli infermieri sono tutti solidali nei confronti dell'ex primario. Il pronto soccorso di Pesaro è ormai diventato una polveriera. Disorientamento, sconforto, commozione, esasperazione e amarezza sono i sentimenti che serpeggiano tra il personale, personale medico e personale infermieristico. Dopo la decisione della direzione generale di Marche Nord, supervisionata dall'assessorato regionale alla sanità, ovvero da Salta Martini, di sostituire Umberto Gnudi alla direzione del reparto che ha guidato negli ultimi anni. È stata considerata quasi una punizione per le dichiarazioni che Gnudi aveva fatto in merito alle deficienze del reparto e della carenza di personale per far fronte a tutti i problemi causati dalla pandemia. Non dobbiamo però sottovalutare chi lo sostituisce, Giancarlo Titolo, che ha diretto il pronto soccorso di Fano, un medico altrettanto esperto e valido appunto per la conduzione di questo delicato reparto. E poi il Corriere Adriatico fa la sintesi dell'incontro che c'è stato ieri trasmesso online, organizzato da Fano Cammina, in merito alla situazione del Covid. Ne hanno parlato Clizia Puglier, il responsabile del reparto di prevenzione dell'area vasta numero 1, Augusto Liverani, rispondendo a tante domande che il pubblico ha rivolto tramite appunto il web. In queste due pagine si parla invece di due strutture importanti per Pesaro, due strutture monumentali, due strutture molto molto ampie. Il San Benedetto, l'ex manicomio, e il carcere minorile che vediamo qui in questa fotografia. San Benedetto è folle stare ancora in attesa, lo ha dichiarato il vice sindaco Vimini, sul rischio di una riqualificazione a due velocità, ovvero anche qui si tentenna per quanto riguarda la ristrutturazione di questo grande palazzo. Invece per quanto riguarda il carcere minorile, nuovo polo educativo corsa ai fondi del PNRR, anche per l'ex carcere. Un progetto, questo del Comune di Pesaro, per il recupero del contenitore di Via Lucca della Robbia. Sarà affiancato da altri studi per la riqualificazione di alcuni complessi scolastici. Si fa molto affidamento sulle risorse del PNRR, che dovrebbe risolvere molti problemi che sono così in vigore da tanto tanto tempo, appunto nelle città, un po' di tutta la provincia, Pesaro, Fano, Urbino e tutte le altre cittadine. Albergatori, concessionari e comune, facciamo squadra in nome del turista, un modo per affrontare la crisi che ha causato gravi problemi al settore ricettivo della nostra provincia. Il Presidente dell'Associazione degli Albergatori, APA, Costantini, mette subito sul tavolo le priorità per la prossima stagione. E quali sono queste priorità? Si è parlato soprattutto nell'incontro che c'è stato delle scogliere da realizzare nella costa di Levante, a Sottomonte, per le quali il Comune ha partecipato ad un bando regionale. E poi ci sono i ripascimenti delle spiagge, ripascimenti che dovrebbero essere fatti nel mese di maggio, affinché poi quando inizia veramente la stagione turistica nel mese di giugno o poco più, tutta la situazione balneare e la forza attrattiva più convincente per quanto riguarda le presenze turistiche sia pronta e sia disponibile a cominciare a pieno regime. E' stato incastrato l'hacker che vince sempre, insomma, si può dire, alle slot machine. E' stato pedinato dalle iene e poi denunciato dalla finanza. Accesso illecito per conoscere il momento in cui giocare. La casa di questa persona a Vallefoglia era trasformata in un laboratorio informatico. In soffitta sono state trovate 40 computer collegati appunto da questo giovane di 36 anni in tutta Italia. Così sapeva dove poter riscuotere. Era entrato in possesso anche delle Pausford in maniera illegale, con le quali riusciva ad individuare le slot machine che erano pronte per riversare tutti i gettoni di cui erano disponibili. Le poliziotte della casa circondagliale soccorrono e salvano la vita ad una detenuta. Si era ferita ad una gamba, ancora non si capisce come. Comunque sanguinava abbondantemente di incuranti dei pericoli, magari di contagio oppure di problemi igienici. Le due guardie e le due poliziotte sono riuscite a salvare la vita perché altrimenti c'era anche il pericolo di dissanguamento di questa detenuta. E vengono proposte per un encomio. Safri arriva un'altra condanna per droga dopo l'ergastolo per il delitto malipiero. Si tratta di Zaccaria Safri, già condannato all'ergastolo per essere appunto stato ritenuto l'autore di questo omicidio, di Sabrina Malipiero, la donna che fu uccisa il 13 luglio del 2018 in via Pantano a Pesaro. Ora viene ancora condannato per droga. 9 anni e 27 mila euro di multa. Insomma un ergastolo più 9 anni. Una pena veramente sarà difficile che riesca poi a superarla. Un anno e sei mesi per molestie sul lavoro. Un altro caso ai danni di una donna. Lui era il vice responsabile della giovane che ha denunciato palpeggiamenti e proposte indecenti. Si tratta di un uomo di 56 anni accusato appunto di violenza sessuale nei confronti di una ragazza sulla ventina. Il collegio lo ha condannato a un anno e tre mesi ed il risarcimento alla vittima di 6 mila euro. Allora passiamo al resto del Carlino. Vediamo la pagina di Fano dedicata appunto alle dimissioni e poi ai ripensamenti di Maria Flora Gianmarioli. Carnevalesca, Gianmarioli si dimette, anzi no. La Presidente annuncia l'uscita ma tutto si risolve in un paio di giorni. Il Sindaco hanno fatto un direttivo d'urgenza e sembra che sia rientrato tutto. Certo che se la Carnevalesca fosse rimasta senza la guida proprio nel periodo del Carnevale, Fano non ci avrebbe fatto una bella figura. Di spalla abbiamo invece il rapporto di tipo ambientalistico che è stato formalizzato dall'Associazione Primo Raccolto e la TECFEM, la ditta di ingegneria che opera su Fano ma anche su tutto il mondo. In trincea contro la maxicabina elettrica, via dello squero, sit-in dei residenti, il consigliere Ilari, qualsiasi soluzione sceglieranno sarà di forte impatto. Ilari dice che la pezza è più brutta del buco, insomma, un provvedimento, qualsiasi provvedimento che verrà fatto non risolverà la situazione perché l'errore è stato commesso a monte. Nell'articolo a fondo pagina si parla del tamponamento a catena che è venuto in Viale Romagna e poi abbiamo invece a Marotta che si inasprisce la lotta contro le barriere antirumore. La Regione è con noi, hanno detto i componenti del Comitato che appunto contestano questa decisione di Ferrovie dello Stato di delimitare la linea ferroviaria con altre barriere alte che poi preludano la vista del mare. è stato un incontro con il Governatore Acquaroli, il quale ha fornito rassicurazioni sull'impegno dell'esecutivo regionale per scongiurare la realizzazione delle barriere in ferrovia. Acquaroli ha precisato che le Marche hanno sempre manifestato una ferma contrarietà alle fono assorbenti, insomma, un provvedimento da evitare in tutti i costi. A Urbino si parla della società sportiva di volley, Robur Tiboni, la quale deve affrontare un altro processo per fatture false. Un'udienza subito rinviata ad aprile sul banco degli imputati, l'ex presidente Sacchi, la figlia è un altro imputato, però tutti sono stati già assolti per fatti simili in precedenza. Ora però devono rispondere di altre contestazioni, però hanno alle loro spalle questo giudizio positivo che potrebbe incidere anche sulla sentenza di questo nuovo giudizio. In sei anni di Serie A, la Robur Tiboni, la squadra di volley, vinse la Coppa CEV e giocò in Champions. Quindi fu un anno d'oro appunto per lo sport urbinato. A questo punto vediamo cosa dice il resto del Carlino sulla pagina di Pesaro. Vediamo l'articolo che evidenzia come questo giovane, si tratta di Danilo Madonna, di 36 anni, di Tavuglia, riusciva appunto ad avere ragione delle slot machine incassando veramente tanti tanti soldi. Si parla di somme ingenti, insomma. La finanza gli ha sequestrato una quarantina di computer, poteva guadagnare fino a 50.000 euro al mese. Pensate, quindi una cifra veramente considerevole. Ditta fanese per il ponte sul Foglia. Si parla della costruzione Nasoni di Fano, che si è aggiudicata all'appalto per il collegamento ciclopedonale tra Tombaccio e la zona mare appunto sul fiume Foglia a Pesaro. Il cantiere prenderà il via a giugno e quando una ditta locale vince un appalto considerevole, insomma se ne avvantaggia tutta l'economia. Il fondo inglese molla l'ex Bramante e ora la Rambla finisce nel cassetto. Gli investitori in questo caso si sono ritirati e l'edificio è tornato nelle mani della Cassa Depositi e Prestiti. I progetti del Comune per interrare la Nazionale si basavano sui relativi oneri di urbanizzazione. Erano somme che dovevano essere incassate appunto per i lavori che dovevano essere fatti nell'ex Bramante e invece a questo momento anche questo progetto rimane al palo. Avevano tirato fuori una capalla di mezzo milione di euro per dare il via alla maxi operazione, ma tutto si arresta. I nostri cinema distrutti dalla pandemia, norme assurde, hanno detto i gestori appunto delle sale cinematografiche, adesso lasciateci vivere i gestori delle sale in rivolta. C'è stato un incontro regionale a Dancona, il pubblico si è ridotto tantissimo, dell'80% in due anni. Giometti, che è uno dei principali gestori delle sale cinematografiche della nostra provincia, ma anche delle sale di altre regioni, dice una situazione anormale, un'altra ammazzata dopo quelle legate al virus. Costo energetico triplicato, no a sovvenzioni a pioggia, ma vogliamo tutelare i dipendenti. Pensate, una sala cinematografica, quanta energia, per quanto riguarda meno la luce elettrica, consuma. Difende la madre, picchia la moglie, le chiama la polizia e lo denuncia. Ieri un marito manesco è stato condannato ad un anno e mezzo di reclusione e ha già sulle sue spalle altri progetti. Poi abbiamo un articolo della condanna a Safri, a Zaccaria Safri, per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l'accusa del nuovo atto giudiziario su di lui, che deve scontare appunto l'ergastolo. E poi vediamo un altro articolo che ci fa un po' sorridere. Una litte tra vicini, da vecchia data, sfocia nel gettarsi addosso le luci di Natale. Vicini si lanciano le luci di Natale alla sbarra per lesioni. Anche questo è finito in tribunale. Ora spegniamo il nostro sorriso, invece, e facciamo un attimo di riflessione. E' morta la battagliera indomita Anna Guerra, professoressa consigliera provinciale e comunale della democrazia cristiana, esponente di spicco dell'associazionismo femminile, si è spenta a 88 anni. Anna Guerra vantava un curriculum politico e amministrativo di primo ordine e di una coerenza cristallina, ricoprendo attraverso gli anni tanti tanti ruoli, sia di carattere politico che di carattere sociale. Da tempo però era alle prese con tanti acciacchi, che non avevano però piegato il suo spirito. Non si conoscono al momento ancora, non si conosce la data e l'ora delle sue esequie, quindi dei funerali e della cerimonia religiosa, appunto, che le darà l'ultimo commiato. Tra arte e cultura, a Sant'Angelo Illizzola apre una biblioteca per non dimenticare. La sede del nuovo spazio di lettura e consultazione sarà all'interno di Palazzo Mammiani. Concludiamo la nostra rassegna stampa con le notizie di sport, perché vediamo che la Vis si prepara ad affrontare il Cesena con Luca. È stata una bella partita, è stata una quadratura circolare, dice il giornale, un tonso che pensa prima di tutti, ma anche il solito gol subito con l'uomo libero in area. Ora la prevendita per la prossima partita con il Cesena e Alvia per i tifosi, sia online che nei punti in città. Domenica al Manuzzi si gioca alle 17.30 a Cesena, insomma una partita in trasferta. Il Fano attende Scoppa e per il Chietivara prezzi popolari. Questa è la prossima partita per i Granata. Scoppa, lo vediamo qui nella foto, è atteso in questo fine settimana. Fano dovrebbe arrivare oggi per coprire un buco non da poco lasciato dalla partenza di Antezza. Vedremo come si inserirà nella squadra questo giocatore. Era l'ultima notizia, a questo punto noi ci salutiamo. L'informazione torna questa sera alle ore 20.30 in occhio alla notizia di Fano TV condotta da Simona Zonghetti. Noi ci sentiamo domani alle ore 7. Buona giornata e a risentirci. Noi ci sentiamo domani alle ore 20.00 in occhio alla notizia di Fano TV.